Bentornati, io sono Diletta. Oggi parliamo dell'umanesimo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete like, lasciate un commento. L'umanesimo fu un fenomeno culturale nato in Italia negli ultimi anni del XIV secolo, sviluppato in Europa nel 400. L'elemento caratteristico di questo movimento fu la riscoperta della cultura dell'antichità classica greco-romana. Da che cosa deriva il termine umanesimo? Da lettere umane. Le discipline quindi storiche, filosofiche, letterarie, tipiche dell'uomo su cui venne posta l'attenzione dagli studiosi del 400, che riportarono alla luce e reintrodussero nella cultura occidentale i classici latini e greci, rimasti sepolti per secoli nelle biblioteche dei monasteri e nell'impero bizantino. L'impero bizantino è l'impero romano d'Oriente, nato quando l'impero romano venne diviso in due grandi blocchi nel V secolo d.C. La sua capitale era Visanzio, poi divenne Costantinopoli e sopravvisse fino al 1453. In contrasto con quanto accadeva nel Medioevo, che era considerato dagli umanisti un'epoca oscura e barbara, vi ricordo che è presente un podcast anche relativo al Medioevo, gli studiosi del 400 posero la loro attenzione sulla capacità dell'uomo di agire nella vita politica e civile e si accostarono ai classici con la volontà di riportarli in vita attraverso lo studio e limitazioni del mondo antico e delle sue virtù. Le città dell'Italia centro-settentrionale furono il perno dello sviluppo di questo movimento, in particolare Firenze, con vitalità culturale ed economica, oltre alla presenza di biblioteche, università e monasteri in cui erano conservati i testi antichi. Per quanto riguarda lo studio del diritto romano, era stato basilare per permettere l'analisi del mondo antico. L'opera di riscoperta dei testi antichi viene avviata nel 300 da Francesco Petrarca, che in una biblioteca ritrovò le epistole di Cicerone, 900 lettere scritte tra il 68 e il 43 avanti Cristo dall'avvocato e politico romano. Sempre su Marco Tullio Cicerone è presente un podcast, ascoltatelo. La riscoperta degli antichi continua poi nel 400 con Poggio Braggiolini, con il ritrovamento di Lucrezio. Poeta e filosofo romano mise in evidenza la necessità di ritrovare i testi antichi, secondo nuovi principi. Così nacque la filologia, ovvero l'indagine condotta sui testi e sui documenti per stabilirne l'autenticità e per ricostruirne l'integrità, per una corretta comprensione. Maestro della filologia fu Lorenzo Valla, che applicò i principi della nuova scienza agli autori latini, manca la Bibbia ed aumenti storici. In una prima fase la riscoperta del mondo classico si concentrò sulla Romanità. La riscoperta del greco, rimasto sconosciuto a gran parte dei letterati latini, iniziò solo verso la fine del 300, quando dall'impero bizantino arrivarono studiosi conoscitori della lingua. Per quanto riguarda invece il concilio di Firenze del 1439, segna l'inizio del neoplatonismo. Il vescovo greco Giovanni Bessarione venne ospitato a Venezia e portò una grande collezione di libri scritti in greco. Così vennero diffuse le opere di Omero, di Tucidide e di Sofocle, che fino a quel momento erano stati conosciuti solo attraverso le traduzioni, sia arabe che latine. E a Venezia arrivarono quindi anche gli scritti di Platone, tradotti dall'umanista Marsilio Ficino, a partire dal 1462. Questi fondò l'Accademia Platonica, dove si tenevano lezioni e si confrontavano gli studiosi, e dove nacque il neoplatonismo, una corrente filosofica che esaltava la centralità dell'uomo nell'universo. Secondo gli umanisti, l'educazione doveva essere finalizzata a formare un uomo virtuoso e impegnato nella dimensione civile e quindi nacque una pedagogia alternativa che non si basava più sui metodi repressivi e sull'apprendimento a memoria. Molti umanisti realizzarono scuole in cui l'insegnamento tradizionale delle discipline letterarie era unito al fine di raggiungere un equilibrio in tutte le attività umane. In particolare ritroviamo la casa giocosa fondata da Vittorino da Feltre a Mantua, una scuola in cui il gioco aveva un ruolo di grande importanza, e Guarino Veronese con la scuola di lingua greca a Ferrara, in cui allo studio delle discipline umanistiche si affacciavano la caccia, il nuoto e la ginnastica. Quindi dopo la formazione dell'uomo doveva avvenire anche una sua determinazione nella vita civile e politica, unendo culto della classicità e impegno etico-politico. Per quanto riguarda quest'audio è tutto, vi invito a lasciare un commento, un like e scrivervi supportando i podcast. Buon proseguimento!